La palla passa all'altra squadra? Sì, si chiama turnover. E se copri 10 yard, allora torni al primo down? Esatto, al primo down. Cavoli, che casino. Basta giocare un paio di volte, poi tutto ha senso. C'è un paio di volte, poi tutto ha chiesto il suo nome a Tommy. Callus. Vai, indietro. Ok, nessuno di questi edifici sembra uno specchio. Andiamo nella zona centrale, da lì vedremo il resto del campus. Resto con Callus. Oddio, quel nome. E' ora di mettersi al lavoro. Tu, questo è il mio fratello. E' arrivederci a lasciare un nuovo 2017. È l'immatorio di questo quattro, il tuo comenta. vs. currento, il tuo buco di psicologia del quadro. Significa il nostro Scientific Combino? Grazie. E' il mio fratello. andrà bene stai indietro è stato divertente è stato divertente Resto con Callus. Oddio quel nome. Quanti pensi che ce ne siano? Di luce intendo. Ci vuole una bella squadra per un'operazione così. Credi che ci saranno miei coetanei? Ah, non lo so. Resta col cavallo, vado a conto. Sì, non voglio che scappi via. Torno subito. Sì, non voglio che scappi via. Grazie. Non, 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 non... Sì! no 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 A posto. 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 Wow, quelle sono scimmie? Sì, un sacco di scimmie. Ehi, guarda, luci. Ehi, guarda, luci. Vedo. Ah, bene, è il primo segno delle luci. Già. Già, proviamo la porta. Ehi, guarda, luci. Ehi, guarda, luci. Fa' attenzione. Fa' attenzione. Anche tu. e, guarda, luci. Ehi, guarda, luci. Ehi, guarda, luci. Grazie a tutti. 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 Ce l'hai fatta? Sì. Dai, passo. Credi che quei clitera fossero luci? No. No, non credo. Perché tengono gli infatti vicino al laboratorio? Bill li usava come difesa. Forse loro fanno lo stesso. Sì, lo vedo. Niente guardi. Forza. Niente di niente. Sì, mi aspettavo di vedere qualcuno. Entriamo. Sei mai stato in questi posti? Cosa? Un'università? Già. No, non da studente almeno. Perché no? Ero molto giovane quando ho avuto Sara. Sei stato sposato? Per un po'. Cos'è successo? Ok. Troppo? Troppo. Forza. Ehi, guarda laggiù. Sì, sembra una via d'accesso. Ehi, guarda laggiù. 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 Tirati indietro. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 www.mesmerism.info